Spazio alla creatività al Talent 2019 Fashion Show di Accademia Italiana Arte Moda Design di Firenze. Grande personalità nelle creazioni degli studenti, quest'anno più delle altre edizioni concentrati sulla moda maschile. Uomini in smoking di velluto viola o immaginati come astronauti. Star dell'evento, l'attrice toscana Martina Stella. Durante la serata, spettacolare esibizione dello stilista Antonio Extempore che improvvisa in diretta un abito su una modella. Grazie a tutti. Grazie a tutti.